Volley maschile, gara 3, finale Scudetto, giovedì a Perugia, la sfida tra gli Umbri e la sorpresa a Monza. E a questo punto è lecito sognare, Maurizio Colantoni ne ha parlato con il libero Marco Gaggini, vediamo. Il suo sogno è l'azzurro ed è uno dei liberi più forti di questa stagione. Con la sua Monza ha battuto Perugia nel match di finale di gara 2. Marco Gaggini, classe 2002, si concentra però sulla prossima sfida. È un sogno e ce lo stiamo costruendo, andando a gara 5 contro l'Ube e quarti, gara 5 contro Trento, sudandocela, con niente di regalato, andare a giocare da loro e mangiarci le mani perché abbiamo sfruttato male delle occasioni, venire qua e vincere, ci stiamo costruendo un sogno fantastico. Il libero è un lavoro veramente, fare il libero è un lavoro veramente difficile, secondo te qual è la cosa più importante per ricoprire questo ruolo? Sicurezza, essere un punto di riferimento magari in difesa, cose del genere e in questo mi stanno veramente aiutando, dandomi molta fiducia quest'anno. Marco, se ti dovessi descrivere le due cose che sai fare meglio e le due cose che ti caratterizzano nella vita, nella tua vita personale? Testardo, perché sono bello testardo, a volte mi butto giù ma torno su facilmente anche con l'aiuto degli altri e in campo mi lancio sotto facendomi colpire, non ho paura della palla, mi lancio. Tu non hai paura ma Perugia secondo te a questo punto potrebbe avere un po' di paura? Difficile, perché loro giocano sempre lì al top e se noi cagliamo un attimo loro sono lì e dovrebbero riprenderci, quindi sarà dura, speriamo di avergliene messo almeno un pochettino e vediamo Gara tra come va.